È arrivata l'ufficialità della vendita dell'isola di San Clemente, o per meglio dire di 62.000 metri quadrati che interessano anche l'hotel a 5 stelle San Clemente Palace Resorts. Ad acquistarla il gruppo turco Permac, che nel progetto prevede di investire 25 milioni di euro per la ristrutturazione dell'albergo, implementando ristoranti, piscina, centro benessere e nuove attrezzature, il tutto nel rispetto dell'impianto edilizio originale. Un progetto che conta di dare lavoro a ben 600 dipendenti e che farà riaprire l'hotel nel 2014, uno degli alberghi più lussuosi d'Europa, detta del vicepresidente del gruppo turco, che costerà per i lavori di ristrutturazione 25 milioni di euro. Dopo il fallimento del febbraio 2012 dunque si riapre una porta a 5 stelle per l'albergo veneziano.